Il Muscatza Morrieto, ogni sera in fantasia e sia d'intra lì pariti con macerie teniamo l'ombra vera. I cavalli li tenia per preferiti, confiettandoli alla cuta e alla crimera. Dopo che con la striglia li hanno bellito, confiette scritte, che non si sguigliavano, che con le forfiche. La notte le carizze le carcavano, sentato a scancapira di Gesù, il tutto arrasco poi se ti sciatavano senza allungere, che già si aspettano. Giovanni Leuzzi ha fatto un'opera non solo meritoria per raccontare tutto questo con grande ironia, ma è riuscito a leggere il linguaggio di un'epoca che non c'è più e a fare un'operazione anche linguistica di ricerca sui vocaboli che nel dialetto corrente stanno scomparendo. Ma stanno scomparendo non perché la gente non parla più dialetto, ma perché gli oggetti ai quali si riferivano quei vocaboli non si usano più. E' l'occasione per ringraziare tutti i medicini che sono state una volta e che mi hanno accorto in questo dicolo 50. E' una cosa difficile, se questo è possibile, se questo è possibile, se questo è possibile, se questo è possibile. Io voglio... 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 Grazie a tutti.